Grazie, passo la parola a Paolo Ferrara, nostro portavoce ad Ostia. Grazie, Paolo Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle ad Ostia. Una città nella città, un municipio con 250.000 abitanti. Un municipio dove si muovono milioni di euro e il municipio dove, come si diceva nelle intercettazioni, se la mucca non mangia non può essere munta. Abbiamo all'interno dell'ordinanza il nostro presidente coinvolto, il nostro minisindaco coinvolto, che prende il caffè con Salvatore Buzzi ma non parla con i cittadini. Abbiamo in questo momento il municipio che si sta sciogliendo a causa della mafia. Le stesse cose sono successe in una città nella città, nel nostro municipio, per cui pensiamo vivamente che la commissione d'inchiesta sia utile anche a fare chiarezza su quello che sta accadendo all'interno di realtà complesse e abitate come quelle dei municipi. Grazie. 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 Grazie.